Sono sempre stato molto interessato al settore delle biotecnologie, in particolare della chimica. Lo reputo un settore molto dinamico e che permette una grossa crescita. Ciò che mi ha spinto a scrivermi a questo corso di TS Biotecnologie è il fatto che sono sempre stata appassionata alle materie scientifiche, già dalle superiori e poi il fatto che questo corso è una buona unione di quelli che sono gli aspetti più teorici come le materie scientifiche e invece quelli più pratici e legati al lavoro. L'idea di scrivermi in un corso basato sulla biotecnologie è stata soprattutto per ampliare la mia conoscenza in un settore nuovo e fiorente. Sono venuta a conoscenza di questo corso tramite alcuni miei parenti che abitano in Piemonte e ho deciso apposta di frequentarlo di TS Biotecnologie e mi do la Sardegna. Ho visto l'annuncio online, sono andata sul sito ITS Biotecnologie e in seguito ho partecipato all'Open Day. Molta attività pratica, il contatto diretto con gli insegnanti e il contatto con le imprese e il mondo del lavoro, questi sono i punti in forza. Tanto il fatto che sia un rapporto molto più diretto con i professori dato che la classe è piccola. La preponderanza di attività molto pratiche, il contatto diretto con le imprese e anche una buona possibilità di inserirsi nel mondo lavorativo. Consiglierei questo corso a tutte le persone che sono dalle superiori o anche dal mondo universitario, che sono appassionate di materie scientifiche come chimica e biologia come me, perché è un buon modo, un buon percorso per approfondire meglio queste materie e inoltre perché comunque ti mette sempre in relazione con le aziende e con il mondo del lavoro. Tutte le persone che vogliono proseguire il loro piano di studi e vogliono avere la possibilità più diretta di entrare nel mondo lavorativo. Il corso dà un'ottima preparazione, lo consiglio!